Vista l'immagine rappresenta due attentici miti attualmente viventi. Da un lato Brigitte Bardot, attrice famosissima, un'icona degli anni Sessanta, bla 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 bla, ma una con così tanto cervello che è riuscita a sopravvivere a se stessa, cioè al suo mito, alla pressione mediatica, a tutto quello che si vuole. Ci sono stati negli anni Sessanta anche altri miti, tipo Marilyn Monroe, eccetera. Sappiamo bene che fine hanno fatto, lei no. Significa che quando c'è cervello si riesce comunque a vincere e a sopravvivere e ad andare avanti, a vivere nonostante se stessi, nonostante il mito che si rappresenta. L'altra, idem con patate, è una Lancia Aurelia B24. Sappiamo, per chi ne capisce di auto, che la Lancia è la casa automobilistica fondamentale nel mercato delle auto, tant'è che, come spesso ripeto, o ne capisci di Lancia, oppure di auto non ne capisci. Anche lei, anche la Lancia Aurelia B24, è un mito che è sopravvissuto a se stessa, perché è stata sì un mito degli anni Sessanta, ma ancora oggi è un mito, con delle quotazioni che veramente vanno al di là di ogni logica. D'altronde parliamo della Lancia, la casa automobilistica senza la quale la Ferrari in Formula 1 non avrebbe mai vinto, per esempio, anzi non avrebbe mai mai debittato in un certo modo. Andiamo avanti. Perché ho deciso di mettere questa foto? Perché oggi parte il CMT di Stoccarda. E il CMT di Stoccarda è come Brigid Bardot, è come la Lancia Aurelia B24. Perché? Perché sono 50 anni che esiste, ovvero, stiamo parlando di una fiera che è nata quando molti di noi non esistevano neanche, o quando molti di noi avevano un'età anagrafica veramente minima, infante. E questo è importante, perché significa che sono stati capaci di prendere e andare avanti, nonostante tutto e nonostante tutti. È esattamente quello che è stato lo Swiss Caravansano di Berna quest'anno, altra fiera che ha festeggiato i 50 anni. Quindi, complimenti, veramente, al CMT di Stoccarda. Oggi, primo giorno, e vediamo cosa ci riserva di sorprese. Già ieri qualche sorpresa c'è stata. Ciao.